Ciao ragazzi benvenuti sul mio canale, oggi siamo alla viera di Santa Valeria Anche la caduta dell'orrore, guardate Sono anche le nostre per i bambini piccoli, guardate Non si riempirà, non si riempirà, non si riempirà, non si riempirà Se si piace le bambi e star, tutti lo possono provare, aina Stagnosu Zangurasu Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Grazie a tutti. Ciao. Ciao.